In occasione della recente cerimonia di consegna del premio internazionale Pergamene Pirandello è stato premiato anche lo scrittore originario di Real Monte, Pascal Schembri, che anche in riferimento alla sua attività in itinere, ascoltiamo al nostro microfono. A Pascal Schembri è stato appena assegnato il premio Pergamene Pirandello. A parte il riconoscimento, sicuramente gradito, le altre attività in cantiere? Allora, il riconoscimento della Pergamene è stato molto gradito perché la Pergamene è dedicata al nostro grande scrittore Luigi Pirandello, premio nobile del 1934, come tutti sappiamo. E quindi mi sono sentito molto onorato perché io, con fronte al nostro grande scrittore, mi sento piccolissimo. Quindi l'anno scorso, come voi sapete, mi hanno attribuito anche il premio Telamone e dopo, prima di venire a Real Monte, ad Agrigento, a Parigi il 13 giugno, dall'associazione Pegasus, la critica letteraria mi ha attribuito nel premio della critica per il libro Femminicidio. Allora si sono salvati per il mio impegno sociale. Dopo una targa sempre alla carriera, comunque, per aver pubblicato 30 libri in 7 anni. Questo giro di presentazione è stato organizzato perché avevo incominciato a presentarla a Roma e quindi la mia gente ha organizzato anche per la Sicilia. E dopo Palermo è stata la volta di Naro, l'altra sera. Adesso, il 29 alle 21.30, in una location ad Agrigento Small, con il responsabile, l'architetto, Gioelle Farruggia, in presenza dell'assessore alla cultura Benemino Biondi, presenterà il libro la docente Giada Anattasia, Elettra Curto, Serenelle Bianchini e il professore Gerlando Sciortino. E presenteremo anche all'occasione il libro delle giovani scrittrici che abbiamo presentato già questa primavera, Simona Mancuso, Tre metri sopra il muro, perché mi occupo io e ci tengo molto alle qualità della giovane sedicenne Simona Mancuso. Dopo il 29 ci sarà la presentazione il 31 con la questura di Agrigento allo stabilimento della polizia, giustamente a San Leone, in presenza del questore. Il libro verrà presentato dal scrittore e regista Enzo Alessi, moderatrice Giussi Terrasi. Questo è il 31, il 5 presenteremo, è una carrellata, il 5 presenteremo un altro libro alle fabbriche Chiara Montane con la presidenza del notaio Pusateri e con il direttore Paolo Minacori. Quindi il libro è Crepusco nel sole, dalla preistoria alla Sicilia a Real Monte. presenterà il libro il grande scrittore, avvocato, il nostro concittadino Gaetano Allotta, Giada Anattasia e Lettracurto. Questo è il 5. Il 6 invece sono a Racalmuto con il sindaco Messano di Regalmuto, il vice sindaco Salvatore Picone, l'assessore alla cultura Salvatore Picone e il vice sindaco la dottoressa Carmela Matteliano. E per finire il 20 al mio paese, a Real Monte, se tutto va bene, ci sarà una serata alle 21 al Teatro Costa Bianca, una serata che stanno organizzando la nuova giunta e quindi se tutto va bene presenterò il mio libro, un po' la mia bibliografia. Grazie.